La Lega Nord presenta un progetto di legge contro il consumo di suolo in Lombardia. Sì, ci siamo già mangiati troppo suolo, quindi basta nuovi centri commerciali, basta nuovi casermoni, si riutilizzano le aree dismesse, si recuperano le decine di migliaia di appartamenti non venduti, siamo già in troppi. E questo vale anche per il discorso degli appalti a chilometro zero. In Lombardia sarebbe sano che lavorassero imprese lombarde, sia per la tutela dell'ambiente che per la tutela dei nostri lavoratori. Quindi se ad Adro fosse già in vigore la normativa sugli appalti a chilometro zero, il sindaco non sarebbe stato arrestato ma premiato. Purtroppo l'Europa va in direzione assolutamente opposta, nel senso che per l'Unione Europea vale solo il profitto, il mercato, il denaro, liberi tutti senza barriere, senza limiti anche alle infiltrazioni delle mafie e delle camorre. In Lombardia no. A me piaceva una Lombardia dove si mangia, si respira, si ascolta e si lavora come si fa da tanto tempo. Senza chiudersi, è però dando una mano in più a chi è disoccupato qua da più tempo. Abbiamo sentito ieri il suo discorso per quanto riguarda la candidatura a segretario della Lega Nord. Può dirci quali sono i punti essenziali? Cazzo, ho bisogno di tre quarti d'ora, non è una domanda. I punti essenziali ieri li ho risunti in indipendenza e disobbedienza. Indipendenza, la Regione Lombardia ne sta dando un esempio. Indipendenza sia da Roma che da Bruxelles a ragionare con la nostra testa. Faccio l'esempio del sostegno ai genitori separati o divorziati, la Regione Lombardia è la prima a farla in Italia, con però il fatto che bisogna essere residenti qua da cinque anni. Quindi aiutare tutti, ma in un momento di crisi, guardare con un occhio di riguardo prima la nostra gente. E se le normative italiane o europee non lo permettono, andare in contrasto con le normative italiane o europee che non lo permettono, perché sono normative imbecilli, come il patto di stabilità, che penso che sia una delle cose più idiote partorite dalla mente umana. Gli esodati, Roma ha fatto il danno su richiesta di Bruxelles, la Regione Lombardia è riuscita per alcune centinaia di persone a ricucire questo danno. Quindi questa è indipendenza e nei limiti anche disobbedienza. Penso che nel futuro delle tre regioni del nord ci sarà buona amministrazione, ma ci saranno anche prove di forza nei confronti sia di Roma che di Bruxelles, perché hanno deciso che qua dobbiamo morire, dobbiamo consumare i prodotti fatti dall'altra parte del mondo, da lavoratori sfruttati a due dollari al giorno. non ci sto, quindi la Lombardia a 10 milioni di abitanti può far da sola, senza Roma e senza Bruxelles. Secondo lei Umberto Bossi riuscirà a raccogliere le firme per candidarsi? Spero proprio di sì, spero che le raccolgano tutti, perché quante più idee ci sono a confronto, tanto meglio è. Ripeto, non sui nomi ma sui contenuti, sull'Europa, sul lavoro, sulla giustizia, sul ruolo dei sindaci, sull'immigrazione, no, sull'immigrazione la vediamo tutti nella stessa maniera, quindi non c'è gran dibattito, però su come arrivare all'indipendenza, all'autonomia, quindi più candidati e più idee, più proposte ci sono, meglio è.